Il meeting del volontariato organizzato dal CSV San Nicola è giunto alla sua 14esima edizione, inaugurata a Bari alla presenza del sindaco Antonio De Caro. L'incontro, un'occasione di confronto tra le varie associazioni presenti anche sulla muraglia con 30 casette bianche, si tiene a pochi giorni dall'avvio ufficiale delle festività natalizie. Un periodo in cui il terzo settore gioca un ruolo fondamentale a sostegno di quanti non hanno un posto o una famiglia con cui trascorrere il Natale. L'emergenza povertà è diventata sempre più evidente, più macroscopica, però abbiamo altre emergenze, abbiamo l'emergenza solitudine, l'emergenza educativa e anche in questo periodo vengono fuori situazioni, parliamo del periodo natalizio ovviamente, in cui queste emergenze danno più all'occhio. Il problema è non rimanere indifferenti, infatti il volontariato ha questo obiettivo, non solo di rispondere, ma di far sì che la cittadinanza, chi ti sta attorno, non rimanga indifferente. Un sindaco vive in maniera più serena quando ha parrocchie, scuole, terzo settore e tante associazioni di volontariato che tengono in piedi la comunità come se fosse una vera e propria struttura portante, di questo sono orgoglioso e anche quando smetterò di fare il sindaco lo potrò fare con maggiore serenità sapendo che ci sono tante persone che si occupano degli altri, che tendono la mano a chi sta in difficoltà cercando di far arrivare tutti al traguardo. C'è qualcuno che arriva prima e qualcuno che arriva dopo, ma l'importante è arrivare tutti.